Al giorno d'oggi sentiamo molto spesso parlare di intelligenza artificiale, ma la domanda è, ci è veramente utile? Ciao Coriano, vi pongo questa domanda. Io per rispondere a questa domanda penso che sia molto importante prima cercare di capire che cosa si intende con l'intelligenza artificiale. D'altra parte, ognuno di noi ha un'idea diversa e molto spesso queste idee vengono fuori da dei film, quindi magari qualcuno di noi si immagina delle fantascientifiche coscienze che vivono su microchips o dei cyborg pronti a distruggerci. La realtà in realtà è un po' diversa e quello che mi propongo di raccontarvi oggi è una declinazione più pratica, più operativa di quello che è l'intelligenza artificiale. Ma andiamo con ordine. Partiamo da il significato di intelligenza. Intelligenza, la parola intelligenza, deriva dal latino intelligere, ovvero fare una scelta. Ancora meglio, fare la scelta giusta. Ma certo, parliamo di intelligenza artificiale. Come fa una macchina a fare una scelta? D'altra parte, le macchine sono sempre state delle esecutrici. Ovvero, dato un programmatore che scrive una lista di istruzioni, loro le eseguono in modo estremamente rapido e senza mai sbagliare. Dare la possibilità a una macchina di fare una scelta è un compito complesso perché implica lasciare alla macchina la possibilità di sbagliare. Certo, sbagliare è un problema, sbagliare va bene, ma capire di aver sbagliato è un'opportunità. Capire di aver sbagliato ci apre la possibilità di imparare, da imparare dai nostri errori. Ma caliamoci in un esempio più pratico, più concreto. Ovvero, per esempio, distinguere i cani dai gatti. Chiameremo quindi qualcuno o qualcosa intelligente se date un'immagine di un gatto o di un cane si saprà dire ok, questo è un gatto, oppure ok, questo è un cane. Certo, per noi adesso è immediato, ma se ci pensiamo bene, non è sempre stato così. Quando eravamo bambini, noi non sapevamo distinguere un cane da un gatto. Come facciamo adesso ad essere in grado a farlo? Beh, abbiamo avuto un maestro o un insegnante, un genitore o un qualcuno che ogni volta che passava un cane ci diceva guarda, quello è un cane. Ogni volta che passava un gatto diceva guarda, quello è un gatto. Abbiamo quindi imparato dall'esperienza. Abbiamo quindi appreso in modo automatico da dei certi esempi come distinguere una cosa da un'altra. Ispirati da questo processo abbiamo cercato di imitarlo anche nelle macchine. Ovvero, data l'immagine di un cane, come fa un'intelligenza artificiale a dire ok, questo è un cane, non è un gatto? Beh, all'inizio, quando è inizializzata, quando viene creata, è proprio come un bambino, non ha la minima idea di come distinguere l'una dalle altre. La chiave è porre all'intelligenza artificiale una serie di esempi da cui apprendere, da cui imparare. Ovvero, una serie di immagini di cani con la scritta, questo è un cane, una serie di immagini dei gatti con la scritta, questo è un gatto. È attraverso quindi l'esperienza, gli esempi, che una macchina può capire. O meglio, che una macchina può almeno imparare a fare delle discriminazioni. Ecco, sulla base di questo principio sono state formulate tantissimi esempi, alcuni che, sono sicuro, molti di voi hanno utilizzato. Per esempio, chi di voi non ha mai utilizzato Snapchat o Instagram? Ecco, questi sono dei chiari esempi di applicazioni di intelligenza artificiale, perché quando noi ci facciamo un selfie con gli effetti di Snapchat o di Instagram, c'è un'intelligenza artificiale che, prima di tutto, comprende che c'è un volto nell'immagine, che è una cosa non banale. E dopodiché comprende dove sono gli occhi, la bocca, e comprende la sua posizione tridimensionale su un'immagine che è piatta. E su di essa applica degli effetti più o meno interessanti, più o meno simpatici, come il mio preferito, l'uomo fragola. D'altra parte, o meglio, ancora un altro esempio, Siri, o Google Assistant, che è il suo analogo di Android. Ecco, questi sono degli esempi di intelligenza artificiale applicati al riconoscimento vocale, ovvero, questi codici, questi algoritmi, comprendono, e hanno imparato a farlo sulla base dell'esperienza, a distinguere da un suono dei fonemi, e da dei fonemi delle parole, e da delle parole delle frasi. E non solo, ma da delle frasi comprendere il significato e cercare di rispondere in modo corretto. Esiste però un'applicazione dell'intelligenza artificiale che io ritengo straordinaria, che mi ha, quando l'ho scoperta, mi ha affascinato tantissimo, e sulla quale ho avuto anche l'onore di portare un piccolo contributo, di lavorarci. Ecco, siamo nel campo della medicina, e si tratta di ridonare a persone che non hanno più la facoltà di muoversi, non hanno più la facoltà di muovere alcun muscolo, e quindi di parlare, la capacità di comunicare. esistono infatti delle patologie, come per esempio la SLA, che portano alla progressiva perdita del controllo volontario motorio del corpo. Non mi addentrerò nel come evolve la patologia, fatto sta che, mano a mano, si perde la capacità motoria del corpo. Prima le braccia, poi le gambe, poi il busto, e infine anche il volto, come è da qui l'impossibilità di poter parlare. Nei casi più gravi, si arriva in uno stato denominato CLIS, Completely Locked in State. In questo stato, non è più possibile fare alcun tipo di movimento, nemmeno micromovimenti, nemmeno muovere gli occhi. E in questo stato, ovviamente, non è più possibile comunicare. Da un punto di vista esterno, se noi guardiamo queste persone, è come se fossero in un coma, perché non rispondono a niente. Ma c'è un'importante differenza. Queste persone, in realtà, hanno il cervello perfettamente funzionante. Cioè, sto dicendo che queste persone pensano, sognano, hanno dei desideri, hanno voglia di comunicare, hanno voglia di parlare. Non so se vi è mai capitato di fare un sogno in cui volevate parlare, volevate gridare, ma non usciva niente dalla vostra bocca. Ecco, queste persone vivono una condizione molto simile. Ma è proprio in casi così estremi e così particolari che l'intelligenza artificiale può venirci in soccorso. O perlomeno può esserci di aiuto. D'altra parte, se siamo riusciti a insegnare a una macchina a distinguere un cane da un gatto, mostrando una serie di esempi, perché non mostrare a una macchina una serie di sì, una serie di pensieri di sì e dei pensieri di no, osservando dei segnali cerebrali provenienti dalla testa, quindi? Ed è proprio così che è stato fatto. ovvero abbiamo costruito una serie di esempi su cui la macchina potesse imparare, una serie di esempi di pensieri. Mi spiego meglio, abbiamo posto a queste persone delle domande, delle domande la cui risposta poteva essere solamente sì o no, come per esempio Roma in Italia oppure 2 più 2 fa 9? Su questa serie di esempi abbiamo costruito un'intelligenza artificiale in grado di distinguere il sì, o meglio, il pensiero del sì dal pensiero di un no. Sto dicendo che per queste persone la cui comunicazione era assolutamente impossibile, era assolutamente impensabile, anzi, adesso è di nuovo possibile. Certo, è possibile ancora a un livello abbastanza primitivo, a livello di sì e di no. In un certo senso è come se fossimo allo stadio di Galileo, abbiamo appena iniziato a puntare il canocchiale sulla luna. Ma questa è una base, è una base che dà speranza ed è una base che con sì o no ci può permettere di reinstaurare un rapporto con queste persone. c'è una cosa ancora più straordinaria, ovvero che questa tecnologia è stata presa da diversi gruppi di ricercatori per investigare come stanno queste persone perché non era più possibile comunicare con loro e quindi è stato sottoposto a un insieme di queste persone di questa patologia un questionario, un questionario standard psicologico con una serie di domande. La compilazione di queste domande alla fine restituiva un punteggio, ovvero il punteggio qualità della vita. Insomma, è un modo scientifico per dire oh ma come va? E questi sono i risultati. Straordinariamente persone in questo stato molto difficile da immaginare l'ottanta per cento di queste persone giudica la propria qualità della vita tutto sommato soddisfacente o addirittura buona. Non esiste una chiara spiegazione scientifica di questo risultato. Alcuni sostengono che derivi dalla condizione di rilassatezza che provano queste persone a causa della paralisi. Altri sostengono invece sia merito della nuova possibilità di interagire di comunicare soprattutto con i loro cari con le persone che li amano che continuano a stare intorno a loro a volerli bene. Al di là della motivazione io credo che sia una straordinaria evidenza della resilienza dell'uomo. Ovvero ovvero appunto della capacità dell'uomo di poter trovare motivi per vivere forza di vivere e felicità anche in stati estremi. Insomma per dirlo in una sola frase siamo molto più forti di quello che pensiamo. Applausi Grazie.